Da studenti ad apprendisti bibliotecari, i ragazzi del Majorana desiderosi di riappropriarsi della biblioteca della scuola e di riconoscerle quel ruolo di centralità che aveva in passato, dopo aver svolto diverse lezioni di teorie e tecniche di catalogazione con un esperto della CB Plunet, sistema bibliotecario della Piana di Lucca, metteranno adesso in pratica quanto imparato al fine di raggiungere il loro obiettivo. La nostra ambizione è quella di riuscire a catalogare i libri che sono contenuti nella nostra biblioteca. Questo lo facciamo creando appunto questo progetto in cui i ragazzi della biblioteca di Alto Pascio sono venuti e ci hanno aiutato, ci hanno spiegato come si fa questo processo e noi nell'estate andremo nelle biblioteche di Alto Pascio, Porcari, Capannori e anche Monte Carlo a fare degli stage per toccare con mano quella che è l'attività per poi riportare quello che abbiamo imparato nella nostra scuola. Soddisfatto della volontà e del progetto realizzato dai ragazzi di diverse classi del liceo, il collegio docenti. Ma la cosa che è veramente bella è che i ragazzi vengono volentieri in estate, lo fanno proprio con l'anima, col cuore. In effetti anche per noi insegnanti è una bella lezione, si dica quello che si dica, ma dei nostri ragazzi noi bisogna veramente avere grande stima, grande affetto e grande rispetto. Obiettivo del Majorana? Quello di aderire alla rete bibliotecaria lucchese. Grazie.